Scalda i motori, la 27esima edizione della Placenzia Half Marathon for Unicef. Scaldano i muscoli gli oltre 1.500 runner che domani prenderanno parte alla mezza maratona della nostra città. Come di consueto, il giorno precedente alla manifestazione, all'Arena da Turi, si trasforma in un grande momento di festa e di gioia. Tantissime persone, tantissimi atleti che vengono a ritirare i pettorali di gara e naturalmente sono innumerevoli le iniziative collaterali organizzate per questo evento. Un piacere correre soprattutto accanto al proprio papà. Sì esatto, adesso vedremo i tempi come saranno, se c'è la differenza o no. Però sì, sempre bello, per me è la terza volta e insomma correre a casa è sempre bello, sempre un'emozione. Questa è la sua mezza maratona di Piacenza, numero? Penso sia la sesta o la settima e quasi tutte corse con Andrea e i corsari della maratona. Accompagniamo i ragazzi sulle carrozzine a correre. Corriamo noi con le nostre gambe per loro. Non le posso dire, non le so dire quante, perché tra competitive e non competitive anche all'estero, Atene, Berlino, abbiamo fatto New York, abbiamo girato il mondo. Lo sport porta ovunque. Abbiamo parlato delle tante iniziative collaterali della Placenza Half Marathon, tra queste Acuna Matata, organizzata da Acrobatic Fitness Piacenza, tantissimi bambini, una grande festa. Un grande successo quest'anno è la quinta edizione di Acuna Matata, in collaborazione con diverse società sportive, tra cui Virtus Calcio, Tennis Club Orgotrebbia, Yamarashi, Arti Marziali, Gassiel, Pallavolo, Volley, Piacenza, Bacchery Basket e Scherma Pettorelli. Quest'anno più di 250 le iscrizioni.